Un bambino di un anno e mezzo è morto soffocato per aver ingerito un piccolo oggetto, probabilmente un tappo, questo quello che si legge sul sito del quotidiano della Puglia. La tragedia è successa a Fasano, in provincia di Brindisi. È stato soccorso immediatamente dai familiari, il bimbo, però purtroppo non ce l'ha fatta, nonostante anche il tempestivo intervento del 118. Sembra infatti che il piccolo, mentre era sul fasciatoio, abbia allungato la manina fino a prendere un tappetto dell'ario solo per portarlo alla bocca, un gesto che però al piccolo è costata la vita perché è diventato fatale. I soccorritori hanno prestato immediatamente aiuto anche ai familiari del bambino che sono stati colpiti da malore. Mamma e papà infatti dopo tutto quello che è accaduto si sono sentiti male. Per il piccolino purtroppo di appena un anno e mezzo non c'è stato nulla da fare.